eccoci qui come è stato un saluto a tutti ben ritrovati vi invito come sempre a commentare numerosi e lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte attivate la campanella numerosissimi mi raccomando siamo oltre 105.000 ma non si è mai abbastanza quando si parla di milan un ospite d'eccezione un grandissimo cuore rosso nero un grande come filippo galli che non ha bisogno di presentazioni grandissimo calciatore grandissimo dirigente e aggiungo anche gran bella persona cosa non automatica non scontata soprattutto in questo mondo filippo ci presenterà il suo sito filippogalli.com poi potete cliccarlo qui sotto nella descrizione vi metto il link molto bello davvero da seguire con grande attenzione e interesse e poi risponderà alle nostre domande sui temi più caldi cioè pioli conferma sì oppure no il tema infortuni la suggestione conte o la tentazione conte dipende dai punti di vista la crescita di gabbia e poi da difensore oltre che da occhio clinico da dirigente il tema zirze è l'uomo giusto oppure no per attacco del milan della prossima stagione ringrazio filippo per aver aperto la busta come direbbe maria e quindi linea lui mi raccomando poi tantissimi a curiosare qui sul sito qui sotto vai filippo e grazie ciao buongiorno a tutti buongiorno a voi amiche rossonere amici rossoneri ringrazio innanzitutto andrea per avermi dato spazio all'interno del suo canale milan hello e prima di rispondere domande ad alcune domande che andrea mi ha posto vorrei chiedervi qualche minuto di attenzione per parlarvi di qualcosa a cui tengo molto questo qualcosa è un blog è il blog che ho aperto ormai più di un anno fa il titolo del blog è la complessità del calcio voi vi direte perché è un blog ce ne sono tanti di blog si è vero beh il blog nasce dal mio desiderio di creare un qualcosa un contenitore in cui poter condividere il mio percorso da calciatore ma soprattutto il mio percorso dopo il calcio giocato è ovviamente la mia passione per il calcio più in generale all'interno vi troverete un angolo milan come poteva mancare l'angolo mina con le cronache e commenti della nostra squadra del cuore i commenti post gara e racconti legati a giocatori rossoneri del passato più recente ma non solo troverete anche articoli di tifosi come voi o semplicemente appassionati che hanno storie da raccontare uno su tutti mi piace ricordare è l'esodo di barcellona nel 1989 quando davvero una marea rossonera di tifosi andò andò a barcellona per assistere alla partita della finale contro steaua bucarest lì davvero tanti tante voci hanno scritto le loro emozioni le loro emozioni le emozioni che hanno vissuto e davvero qualcosa da non perdere nel blog poi c'è una sezione dedicata alla storia del calcio storie delle squadre di club ma anche delle squadre nazionali poi ci sono storie di calciatori che hanno scritto pagine importanti nel panorama di questo sport così amato nel nostro paese non solo ma anche storie struggenti struggenti incredibili di alcuni di loro ovviamente c'è ovviamente ovviamente per me perché io sono un grande appassionato di calcio anglosassone in particolare di calcio inglese scozzese ci sono tante storie che riguardano anche questi questi campionati e queste questo calcio particolarmente amato anche qui in italia per soprattutto per le atmosfere una sezione poi vi porterà a scoprire come il calcio influenzi gli usi e costumi e le politiche di un paese e come a volte la politica utilizzi il calcio per fare propaganda c'è poi una parte dedicata al calcio a 5 al futsal e al calcio femminile e una rubrica bisettimanale in cui parleremo di talenti giovani talenti e infine quello a cui io tengo ancora di più in modo particolare che è un po come posso dire caratterizzato quello che è stato il mio percorso post calcio si parlerà di di metodologia dell'allenamento quindi di metodo di apprendimento di formazione e di umanizzazione sono articoli non soltanto per addetti ai lavori quindi per allenatori preparatori atletici piuttosto che video analisti sport scientist allenatori dei portieri o data analyst no le nuove figure che oggi sia si affacciano al mondo del calcio ma un po per tutti gli appassionati gli aspetto allora su www filippo galli puntocom non costa nulla e non dovete iscrivervi basta fare un click per per entrare ed ora veniamo alle domande che mi ha posto andrea cosa penso della stagione del milan cosa penso della stagione del mina beh io credo che la stagione del milan fino ad oggi sia stata alla fine una stagione positiva è chiaro che se guardiamo in alto e vediamo i nostri cugini avanti di 14 punti questa stagione positiva perde peso perde perde di valore anche se consideriamo il fatto che siamo usciti dalla dalla coppa dei campioni però non dobbiamo dimenticare che minan ha avuto un momento difficile davvero un momento complicato con tante assenze con tanti infortuni e pioli non ha mai avuto a disposizione l'acqua la squadra chiamiamola così titolare e neanche le seconde linee quindi davvero credo che pioli abbia dimostrato di saper tenere la barra ben dritta di riuscire andare a recuperare anche il secondo posto rispetto ad uno juventus che sembrava ormai lontana l'inter certo rimane ancor più lontano e quello che sicuramente fa paura a noi tifosi rossoneri è il fatto che i cugini possano vincere la seconda stella a casa nostra nel derby del 22 aprile prossimo speriamo davvero di no però ripeto io credo che la stagione possa considerarsi positiva al netto ovviamente di tutti quegli infortuni che sono accaduti pioli va confermato o no beh pioli ha dimostrato come detto prima di di avere la squadra in pugno di avere la squadra con sé di saper tenere la barra dritta considerando anche che come posso dire ha avuto tante critiche che sono arrivate dai tifosi all'interno del della tifoseria nostra no e ovviamente sarà la società a decidere certo il piazzamento in campionato in campionato il prosieguo o meno del cammino in europa league e forse anche il risultato del prossimo derby potranno influire sulla sulla scelta saranno importanti anche le dinamiche all'interno non dimentichiamoci del ruolo assegnato a zlatan ibarimovic che vorrà dire la sua in proposito potrebbe essere tentato ad una scelta verso il cambio per dare anche un segnale forte rispetto appunto alla sua nuova sono vencato con la sua nuova posizione stremo stremo a vedere se mi stuzzica l'ipotesi conte 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 certamente un vincente ha vinto in italia e ha saputo vincere anche nella premier no in inghilterra con il cs è un allenatore che molti vorrebbero io non sono particolarmente stuzzicato da questa idea rispetto il lavoro fatto da conte in tanti altri contesti appunto però ecco io anche per rispetto di quello che che il nostro pioli ha fatto andare avanti andare avanti con lui un altro tema è un'altra domanda che mi viene posta è quella relativa agli infortuni ne ho un po già risposto prima insomma anche se voglio dire è chiaro che come dicevo gli infortuni hanno creato grandi problemi al a pioli alla squadra e risultati proprio nel momento in cui ci si andava a giocare il passaggio in champions league agli ottavi ne abbiamo avuti tantissimi qui chiaramente poi uno se vuole dare la responsabilità completamente a pioli e allora è chiaro che pioli è responsabile quindi si dovrebbe pensare ad una scelta in una certa direzione poi non credo che pioli sia l'unico l'unico responsabile occorrerà capire cosa è successo per fare in modo che questo non accada più certamente si gioca molto di più non ci sono più tempi e modi per recuperare le fatiche e quindi a volte si vanno in campo giocatori che non sono che non sono al meglio però è indubbio che insomma bisognerà fare chiarezza sotto questo punto di vista e cosa ne penso di gabbia di quello del percorso fatto da gabbia quando è tornato bene penso in maniera positiva direi insomma gabbia dimostrato matteo ha dimostrato di essere un giocatore serio di un giocatore in continua crescita che ha saputo approfittare anche di un passaggio fuori del milan è andato in prestito al villareale è stato richiamato è venuto qui con grande serietà con grande impegno voi direte certo torna al mina come possibile non dare il massimo dell'impegno il massimo della della dedizione a questo club certamente però ecco quando avviene credo che sia giusto sottolinearlo matteo forse sarà un difensore che non ha come i tomori come ciò di più ancora caluro quella velocità di base che dovrebbe avere un difensore quando una squadra decide di essere in comando nel campo e quindi di avere tanto spazio alle spalle ma matteo ha saputo dimostrare quanto la sua capacità di lettura del gioco sia sia importante e quanto sia in grado di essere focalizzato sul diciamo così sul compito e questo gli permette sempre di fare la sua la sua prestazione credo che possiate essere tutti d'accordo l'ultima domanda che mi viene fatta e mi viene posta da andrea è che cosa penso rispetto alle possibili e possibili arrivi per l'attacco della prossima stagione si è parlato tanto di zigze che cosa ne penso beh è un giocatore che è alto 193 centimetri pesa 84 kg e devo dire per come si muove per il suo dinamismo per la sua capacità di controllare il proprio corpo davvero non si direbbe che abbia una una simile stazza una sile una simile struttura però devo dire che è un giocatore che a me piace molto è un giocatore che appunto viene definito un playmaker offensivo ma è un giocatore che sa legare il gioco tra centrocampo e attacco è un giocatore che anche il gol è un giocatore che vorrei vedere a san siro indubbiamente però non solo lui perché se dovesse lasciarsi lasciarci girù come sembra che chi accadrà c'è bisogno di qualcun altro di anche di un giocatore di un attaccante più d'aria dirigo da rigore e quindi un realizzatore vero e proprio spero che la società si muova in questa direzione ovviamente parlo da parlo da tifoso però sono fiducioso su quello che andrà a fare il milan per la prossima stagione vi ringrazio e vi ricordo www.filippogalli.com ho dimenticato un punto però insomma è facile basta un clic ciao forza milan a tutti grazie andrea ancora ciao è stato un grande piacere grazie a filippo ragazzi vi ricordo qui sotto il link filippogalli.com e grazie ancora al grande filippo galli che speriamo di avere prossimamente ancora qui sul nostro canale youtube che ne pensate commentate qui sotto su tanti temi caldi che dividono fanno discutere non tutti siamo d'accordo ad esempio io sul tema pioli non sono d'accordo con filippo però ci può stare un saluto ancora mi raccomando iscriviti anche al canale youtube e lasciate un bel like per questo contenuto a presto grazie a tutti